Numerose le polemiche innescate in questi giorni rispetto alla pièce teatrale di Scarpinato. Fafafin, mi chiamo Alex e sono un dinosauro, che parla di un cosiddetto bimbo fluido, né maschio né femmina. C'è chi parla di censura inaccettabile e medievale. Io credo che la libertà di educazione sia uno dei diritti non negoziabili. Io credo che le famiglie hanno il diritto e dovere dell'educazione dei figli e hanno il diritto e dovere di conoscere quello che viene proposto come modello educativo ai propri figli. Ecco perché credo che non sia una censura assolutamente medievale, ma sia un senso di libertà. Questi sono i termini della questione. E' un elemento di discriminazione. Poi tra l'altro credo che si confondano i termini, perché con l'omofobia, con il diritto di scelta anche sui comportamenti sessuali, questo non c'entra a nulla. Qui parliamo di progetto educativo e il progetto educativo riguarda essenzialmente la prima cellula educativa che è la famiglia.